ciao parliamo ora dell'accettazione allora di che cosa si tratta? a parte che a me piace più chiamarla accoglienza che accettazione l'accoglienza è essere in uno stato dove tu ti apri a ricevere il meglio per te ho appena parlato con una persona che mi ha fatto veramente gioire perché questa persona ha detto una cosa bellissima veramente bella ha detto non mi importa cosa sarà la cosa importante per me è scoprire qual è il mio cammino qualunque esso sia sono disposta a tutto per andare in quella direzione ebbene questa cosa è meravigliosa e lo stato migliore per intraprendere veramente il tuo cammino la tua strada perché comunque in realtà le persone sono spesso guidate dall'ego l'ego semplicemente ci dice a volte che noi non andiamo bene così come siamo che gli altri sono migliori di noi che magari la missione degli altri può essere più bella della nostra ossia se tu guardi delle persone attorno a te ti sei detto ecco vorrei essere così vorrei essere cosa piuttosto che guardare a ciò che tu sei e permetterti di accogliere quello che sei e di migliorare te stesso a parte che ci sarebbe già tanto da dire in questo perché comunque se tu ammiri qualcuno in realtà stai ammirando quei talenti che sono in te e che magari non ti sei ancora permesso di esprimere almeno completamente quindi la bellezza è negli occhi di chi guarda assolutamente senso comunque per quanto riguarda ciò che ti stavo dicendo sappi che il tuo cammino è il più bel cammino del mondo non esiste un cammino migliore del tuo per te perché il tuo cammino è l'unico che è in grado di renderti felice e quindi accogli te stesso perché sei la persona più idonea perfetta esattamente così come sei per portare avanti il tuo scopo di vita quindi parti da quello e al mattino e anche durante la giornata se ti capita quando ti guardi allo specchio ripetiti proprio questo io sono la persona perfetta per portare avanti il mio cammino io sono perfetto così come sono e mi amo così come sono sappi che tu sei una persona perfetta perché sei comunque un'anima e l'anima è qualcosa di meraviglioso di perfetto sei perfettibile sì nel senso che comunque tu puoi migliorare nel fare nell'essere sei già meraviglioso così come sei quindi tu puoi imparare delle cose puoi sfidarti puoi andare oltre i tuoi limiti i limiti che in genere hai creato tu stesso perché i limiti in realtà non esistono e camminare passo passo per permetterti di trovare e di incontrare quella parte così luminosa che è dentro di te che sei tu e che può permetterti di esprimere ciò che sei venuto a fare qui che tu sia un anima diamante oppure un anima indaco arcobaleno cristallo o semplicemente che tu abbia un altro percorso qui sulla terra va bene quello che hai scelto di essere sei l'essere la persona perfetta per portare avanti il tuo scopo e quindi onora te stesso accogliti abbracciati e permettiti proprio di ringraziare te stesso e l'universo per quello che sei tu sei perfetto così come sei e sei l'unica persona al mondo che è in grado di manifestare il suo scopo ti abbraccio e ti auguro una bellissima giornata